Ciao a tutti, vi do il benvenuto in questo nuovo video in cui parleremo in dettaglio delle emozioni sia positive che negative che provano i nostri cavalli scuderizzati, i nostri cavalli sportivi, cioè non i cavalli bradi ma i nostri cavalli con cui abbiamo a che fare tutti i giorni. Il cavallo scuderizzato, cioè il cavallo in scuderia, i nostri cavalli sportivi provano emozioni tutti i giorni e quindi bisogna saperle riconoscere, bisogna capirle, bisogna tenerle vive, chiaramente le emozioni positive e non quelle negative. Nello scorso modulo abbiamo parlato di comportamento, abbiamo visto nello specifico che cosa è obbligatorio sapere se si ha un cavallo e capito che bisogna osservare, imparare a osservare i cavalli per poterne apprezzare il disagio e anche per vedere se ci sono comportamenti anomali e da che cosa sono dettati questi comportamenti anomali in maniera tale che se ci sono e se si può evidenziarne la causa, quella causa va obbligatoriamente rimossa per poter far star bene i nostri cavalli. Abbiamo detto che ci sono delle emozioni, le emozioni sono sia positive che negative, chiaramente come per le persone, e che purtroppo quelle negative sono molto frustranti e stressanti per il cavallo. Vediamo prima quelle positive comunque che sono le curiosità e interesse che come vi dicevo nello scorso video sono fondamentali ed è fondamentale tenerle vive, mi raccomando, cioè il cavallo è un essere pensante, quindi non è che dobbiamo tenerlo in una galera, anzi, cioè dobbiamo comunque mantenere viva quella che è la curiosità e l'interesse per l'ambiente circostante. Quindi dargli la possibilità di vedere, di guardarsi intorno e di interagire, questo è fondamentale. Tra queste emozioni positive vi rimetto anche qui l'emozione dell'anticipazione perché è la più piacevole delle emozioni per il cavallo e l'impulso di base alla ricerca, all'indagine e all'esplorazione dell'ambiente. Per cui è quello che lo mantiene vivo, l'attesa, l'attesa di avere qualcosa di buono o di bello. Quindi quella voglia lì di avere qualcosa di buono o di bello, più l'attesa di ottenerlo, più la curiosità, stanno alla base proprio del principio dell'anticipazione. Perché cosa applica maggiormente il cavallo scuderizzato alla componente di attesa dell'anticipazione? Questo me lo dovete dire voi per i vostri cavalli, nel senso che io vi ho scritto qui quale secondo me sono le cose per cui il cavallo applica maggiormente questo principio dell'anticipazione. Però magari voi avete cavalli che adorano fare certe cose, magari scrivetemelo qua sotto e così poi magari lo vediamo insieme e ne parliamo poi insieme. O comunque possiamo scambiarci delle opinioni tra di noi, insomma. Comunque per me il mangiare è una delle prime cose. Quando arriva l'ora di mangiare, infatti i cavalli si aspettano che noi gli diamo da mangiare. Quando cominciamo a partire col mangime in fondo alla scuderia, i cavalli che stanno invece dall'altra parte scalpitano, cioè attendono quel momento lì con grande trepidazione. Mi raccomando da questo punto di vista qui di non frustrarli mai. Cioè nel senso che se avete cavalli che per un qualche motivo non possono mangiare il mangime o ne devono mangiare molto poco, non possono mangiarlo perché già poco sarebbe qualcosa. Mi raccomando non passateli oltre col carrello senza dargli niente perché per il cavallo è stressantissima questa cosa, è veramente frustrante e stressante. Perché se vede gli altri intorno mangiare, se ha messo appunto in pratica questo impulso, questa emozione positiva dell'anticipazione e poi arrivate lì e non gli date niente, per lui è veramente frustrante. E quindi si stressa moltissimo. Per cui se potete ovviate a questa cosa dandogli magari delle carote, delle mele, un pochino di mangime, anche magari solo un pugnettino. Però insomma non passate oltre senza fargli niente. Altre cose sono i premi dell'attenzione del proprietario. Ci sono dei cavalli che non amano molto essere puliti, strigliati, invece ce ne sono altri a cui piace tantissimo. Tra quei cavalli a cui non piace molto sono quelli più schivi, che come vi spiegavo nello scorso video sono di solito i soggetti acqua, che non amano molto interagire con l'uomo. Ma invece altri adorano, adorano farsi coccolare, adorano prendere i premi dei proprietari, quindi le carote, gli zuccherini, le mele, essere strigliati, coccolati, pettinati. Insomma ci sono cavalli che adorano questo. Per cui mi raccomando, se siete abituati a farvi preparare il cavallo dal grumo, almeno una volta ogni tanto concedete anche al vostro cavallo il piacere di, insomma, pulitelo voi, sellatelo voi, perché è una cosa molto bella che potete fare nei confronti del vostro cavallo. Un altro premio, secondo me, validissimo, per cui il cavallo mette in pratica tutta questa componenza dell'anticipazione, è l'uscire al paddo, cioè la libertà. La libertà, ricordatevi che per il cavallo la libertà è importantissima. Se potete, se avete questa possibilità, ricordatevi che è un ottimo sistema per premiare il vostro cavallo. Cioè, se il cavallo lavora bene e ha lavorato bene, insomma, volete premiarlo, regalategli un po' di tempo libero, quindi un po' di un'ora, due ore, tre ore, vedete voi, in un paddo. Lo che tenete in considerazione è che il cavallo, se lo mettete al paddo dopo che ha lavorato, è più stanco, quindi tende a correre meno. E se avete, magari, siete di quelle persone che hanno il terrore che i cavalli si facciano male, e qui ribadisco che i cavalli, se vanno fuori tutti i giorni, non si fanno male. Comunque, se avete questo tipo di paura, vi dico, non è che è matematico, però di solito quando hanno lavorato e sono stanchi tendono comunque a muoversi, a muoversi di meno, a correre di meno, perlomeno. Però la libertà, il fatto di guardarsi intorno, di interagire con i cavalli vicino, come vi dicevo, è veramente, veramente importante.